ben trovati ad una nuova edizione di trekking news scopriamo insieme le notizie di oggi grazie alla tecnologia fast layer deposition poetry infinity permette di produrre in tempi brevissimi prototipi di qualità di ogni componente meccanica anche di elevate dimensioni componenti motore componenti estetici collettori di scarico e quadro strumenti possono essere realizzati in tempi brevissimi grazie alla tecnologia che contraddistingue poi tre infiniti velocità di spostamento di 1100 mm al secondo multimateriale risoluzione di 15 microns garantiscono risultati perfetti per qualsiasi tipo di forma il combi max di famonville funziona su base modulare il cliente seleziona con precisione gli elementi necessari per il trasporto li carica sul trailer stesso lavorando subito il combi max nella versione base è costituito da due carrelli a tre assi più un modulo a due assi e un bugi a quattro collo di cigno e piano a ribassato completano il tutto per trasportare carichi di 100 tonnellate su lunghe distanze gt radial amplia la gamma con il nuovo gtl 919 pneumatico di nuova generazione pensato per il lungo raggio e disponibile nelle misure da 19.5 e 22.5 ricordiamo che il pneumatico è stato studiato e sviluppato per ottimizzare l'investimento complessivo la mescola e la profondità del battistrada consentono una migliore aderenza al suolo e il nuovo design laterale garantisce una buona resistenza a taglie e strappi riducendo così il consumo di carburante e aumentando la resa chilometrica ed ora vediamo insieme l'intervista a marco buraglio direttore veicoli commerciali ford e all'interno del nostro track e shop sempre in giro per l'italia oggi c'è marco buraglio direttore veicoli commerciali ford benvenuto grazie mille allora innanzitutto partiamo ricordando un importante compleanno perché quest'anno il ford transit compie 50 anni un anno quindi diciamo particolare per voi è un anno molto importante perché transit per noi rappresenta il prodotto chiave da sempre il prodotto che da 50 anni è il riferimento del mercato dei veicoli commerciali è un prodotto globale che quindi in tutto il mondo esprime performance di primissimo livello da 50 anni transit rappresenta il veicolo commerciale cioè possiamo con orgoglio dire che oggi transit significa proprio veicolo commerciale all'interno del mercato quindi siamo molto orgogliosi di questo anniversario e contiamo anche in futuro insomma di poter esprimere performance di altissimo livello con questo prodotto che è sempre più in linea comunque anche col progresso e con le necessità che un mercato sempre più in crescita anche dal punto di vista tecnologico richiede certo e quali sono invece i risultati attuali di ford nel mercato italiano e quali sono soprattutto anche le prospettive certo certo beh noi abbiamo completato negli ultimi due anni un rinnovamento completo della nostra gamma che quindi parte dal piccolo courier fino al connect per poi passare al transit custom al transit più grande per poi parlare anche del ranger quindi abbiamo oggi una gamma veramente completa che esprime delle performance molto importanti e non a caso oggi in italia noi siamo import leader cioè dopo il produttore nazionale c'è ford quindi con orgoglio siamo import leader e questo sarà l'obiettivo anche per i prossimi mesi e anni quello di rimanere in questo contesto molto favorevole benissimo allora io ringrazio Marco Buraglio ovviamente vi auguriamo buon lavoro